Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e alcuni consiglieri hanno incontrato a Palazzo Laskaris l'ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia, Sargis Gazarian. L'intenzione è quella di promuovere sul territorio iniziative che raccontino i piemontesi la storia dell'Armenia e contribuiscono a far conoscere un paese che si sta proiettando con forza verso il futuro.